Il mondo dei medium è la verità dietro i loro presunti poteri. E questo è il soggetto scelto da regista Rodrigo Cortez per Red Lights, il suo ultimo film che vede nel cast Robert De Niro, Sigourney Weaver e Cillian Murphy. C'è molto materiale drammatico, dice Murphy nei panni di un investigatore del paranormale, perché sono in gioco il mistero e il bisogno della gente di credere. Persone razionali e intelligenti mettono da parte la loro ragione per cedere a questo bisogno che hanno di credere, una necessità che abbiamo, abbiamo avuto e sempre avremo. Tutto ciò mi affascina. Robert De Niro e Simon Silver, un medium di grande fama che dopo trent'anni di assenza torna sulle scene per dimostrare la veridicità delle sue doti sopranaturali. We can go forward with lies, but we can never go back. La parte più interessante della mia ricerca, dice il regista, è che ho scoperto che entrambe le parti, voglio dire quegli scettici e quelli che ci credono, si comportano in modo molto simile, indipendentemente da quello che dicono. Tendono ad accettare solo ciò che conferma le loro precedenti posizioni e rifiutano ciò che le mette a rischio. È piuttosto interessante, crediamo a ciò che è più conveniente per noi credere e in ciò che ci permette di non cambiare. Quest'estate il film sarà nelle sale di Portogallo, Germania, Olanda, Belgio, Svezia, Danimarca e Russia. Are you challenging me? Are you questioning my power? Civil!